Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video, oggi video particolare perché come potete leggere dal titolo oggi andremo ad unboxare una maglietta Balenciaga fake che arriva direttamente dalla Cina acquistata su DHgate, in caso vi faccio vedere qui la maglietta che ho comprato poi vediamo se è effettivamente come l'ho ordinata l'ordinata da DHgate e l'ho pagata circa 20 euro l'espedizione è molto veloce perché è arrivata in una settimana, settimana e mezza quindi senza perdereci troppo in chiacchiere andiamo a vedere com'è questa maglietta andiamo ad unboxare il pacchetto eccoci qua, il pacchetto arriva direttamente dalla Cina, da Hong Kong, Kung Hong Kong quindi procediamo allo spacchettamento speriamo che questo video non venga adottato da YouTube essendo una roba fake ah, l'ho ordinata nera, è nera eh quindi attenzione bisogna sapere che le loro taglie sono molto particolari perché loro hanno la taglia asiatica ed è più piccola rispetto alla taglia nostra europea quindi ho dovuto prenderla XL taglia XL Valenciaga Paris con tanto di etichetta super mega fake e anche tagliandino come potete vedere qua Valenciaga che a poco va di parire Valenciaga con quattro scritti cinesi e la maglietta nera era esattamente questa taglia andino Valenciaga e la maglietta è questa sembra abbastanza perché solitamente la stampa bianca sul nero viene più chiara perché stampare un colore chiaro sulla maglietta nera viene un po' più tipo sbiadito però apparentemente non è proprio definitissima ma adesso vi faccio vedere com'è quindi adesso è che non so se provarla perché arriva dalla Cina proviamola un secondino ed eccoci qua cari amici miei con il t-shirt con la puzza di cinese Valenciaga come potete vedere Valenciaga davanti e Valenciaga dietro con le etichette eh con le etichette la stacchiamo dopo Valenciaga dietro quindi questa cari amici è la maglietta Valenciaga direttamente dalla Cina la taglia è giusta io porto una L l'ho presa XL e la taglia vuol dire che che ci siamo cari abbastanza bene quindi vabbè dai abbastanza soddisfatto di questo acquisto da 20 euro di questo maglietto valenciaga beh ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate pure un like e se volete vedere altri unboxing o altri video sul mio canale vi invito ovviamente ad iscrivervi al mio canale noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti